Il fatturato di settembre lo semini a gennaio. E ancora, la vendita fisica è destinata a sparire? Se sei molto bravo o brava nel tuo lavoro, ha senso farsi pagare a percentuale sul fatturato, sul risultato, o è una pessima idea? La comunicazione a sua misura può salvare la via degli dei? Quanto ti costa alzare il fatturato grazie al mondo online? Devi comunicare tu o puoi delegare la cosa ai tuoi dipendenti? E infine, perché i fuffa guru e le web agi si fuffa la sparano sempre più grossa ogni mese che passa? Ma perché ti parlo di queste cose? Perché io sono Enrico Cecchini, il sarto del web. Il mio lavoro è aumentare il fatturato e accelerare la crescita dell'impresa grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. E questo è il canale dei sarto del web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, ti do il benvenuto in questa nuova puntata del sarto. Oggi affrontiamo un sacco di argomenti, come hai sentito nell'intro. Questa è una quattro chiacchiere col sarto. Ho raggruppato un po' di argomenti, di domande che sono arrivate al laboratorio e vediamo di affrontarle tutte una dopo l'altra. Poi se vorrai che ne approfondisca una o più, mandaci un messaggio, scrivici un commento, quello che preferisci, e vedrò poi di farci un contenuto dedicato. Per chi non lo sapesse, gestisco un'agenzia di comunicazione online, il nostro lavoro è realizzare le strategie, creare i contenuti, i materiali, dopodiché strutturare quella che è una campagna di comunicazione online che aiuta l'azienda a raggiungere il proprio obiettivo, che sia attirare clienti, attirare dipendenti, aumentare il fatturato, aumentare il numero di volte che un cliente torna a comprare, eccetera. Quindi il nostro è un servizio chiavi in mano. Su questo canale io semplicemente parlo del nostro lavoro e di tutte le opportunità che il mondo online offre alle aziende italiane. Quindi, se ti piace l'argomento di cui stiamo parlando, metti mi piace, cuoricino, iscriviti, clicca like, tutto quello che piace tantissimo all'algoritmo, e procediamo con gli argomenti di oggi. E andiamo rapidi, rapidi. Col primo, la domanda ci scrive Luca, Luca che dice Ciao Sarti, ho appena finito di guardare i webinar sul B2B. Ah, perfetto. Molto interessante, ci scrive Luca. Grazie Luca. Credo di aver capito cosa devo fare nel prossimo anno. A tal proposito, ho pianificato di usare le ultime due settimane di agosto per pianificare un aumento di fatturato per settembre. Questo è solo un estratto di quello che già scritto, perché poi si entra nel merito di quello che fa come lavoro Luca, ma non è qualcosa che interessa a te che ci stai seguendo. Quindi, perché ho tirato fuori questo argomento? Perché la prima cosa che ho pensato quando ho visto la domanda di Luca è stata una citazione di Biz Stone, che è uno dei cofondatori di una serie di grandi aziende, fra cui Twitter. Biz Stone scrive Tempismo, perseveranza e dieci anni di tentativi faranno sembrare che tu abbia raggiunto il successo da un giorno all'altro. Che è un errore molto, molto comune, perché uno può dire, ok, da agosto pianifico il fatturato del prossimo mese, no ragazzi, il fatturato di settembre lo semini a gennaio. Che cosa voglio dire con questo? Che le tue azioni non hanno più un'efficacia immediata, o meglio, devo specificare, nel vuoto qualsiasi cosa tu faccia, ok, ha un risultato nel bene o nel male. Quindi, se abbiamo un'azienda appena creata, c'è un impatto immediato, ok, non stai facendo nulla, poi fai qualcosa, ecco che subito i clienti arrivano. Ma probabilmente la tua situazione non è questa, le persone che seguono questo canale hanno già delle aziende avviate, anche da tempo, e hanno già un loro circolo di fatturato, ecco. E quindi se tu hai un'azienda e stai pianificando, devi cominciare a partire da più indietro, ok? Devi cominciare a comprendere che una crescita reale non può essere semplicemente la conseguenza di una decisione, ma questa decisione deve portare alla creazione di una strategia. Questa strategia ha bisogno di materiali per essere realizzata, ok? Strumenti, dei test, eccetera, eccetera. Cioè, costruire il fatturato, aumentarlo, non è uno scatto, ok? Non è un centometrista la persona che aumenta il fatturato, è un maratoneta, è una persona che vince sulle lunghe distanze, ok? Un aumento costante di quelli che sono i tuoi risultati. Ti faccio un esempio, no? Stavo guardando i dati del Black Friday che abbiamo avuto nel 2023, ok? Ora siamo ad agosto. Giusto per dirti qualche numero, gli italiani nel Black Friday del 2023 hanno speso 4 miliardi di euro. Una barcata di soldi. Ancora, il 40% dei consumatori è più predisposto ad acquistare durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Questo poi è un dato molto generico, ma possiamo riportarlo in tutta una serie di settori. Altro dato, l'Italia è al terzo posto in Europa con il 58% delle persone che effettueranno la maggior parte dei loro acquisti durante il Black Month e Natale, ok? Il mese del Black Friday e Natale, quindi sempre strutturato, sempre incentrato su questo periodo storico. Negli ultimi sei mesi, questo è l'ultimo dato, del 2023, la spesa media per persona aumenta di 255 euro. Questo significa che le persone mettono da parte buona parte del loro budget per questa eventualità, sanno che in quel periodo ci saranno dell'occasione, eccetera, eccetera. Quindi un'azienda, perché ti lo vorresti dati per farti un esempio, un'azienda può pensare, ok, perfetto, il Black Friday è un periodo meraviglioso in cui si vende tanto, mi ci tuffo, faccio qualcosa per il Black Friday. Vedete qua che vanno bruciati tutti i tuoi soldi, tutti i soldi che avevi pianificato di mettere in campo per una campagna di comunicazione online per attirare i clienti vanno e evaporano e non portano a nessun risultato. Perché? Perché se tu parti adesso a pensare, vado a colpire il Black Friday, non puoi pensare al Black Friday 2024, devi pensare già al Black Friday 2025. Cioè devi, perché in quel periodo storico, non è che le persone ti acquistano da te semplicemente perché esisti e hai partecipato a questa grande festa. Le persone tirano le somme andando a scegliere le aziende in cui hanno più fiducia e questa fiducia la si è costruita negli anni precedenti. Non lì nel momento, non è che metti fuori un cartello dal negozio o mandi fuori il venditore con l'offerta o chiami a freddo qualcuno e allora funziona. È un lavoro a lungo termine, è così che si costruiscono i milioni, non facendo qualcosa un mese per l'altro. Quelle sono piccole azioni tattiche che bisogna sempre fare, per carità, ma non è sicuramente così che pianifichi la crescita della tua azienda. Purtroppo c'è quest'idea perché si immagina che siamo nel nuovo millennio e tutto più veloce, tutto più smart. Il cazzo, le aziende che hanno risultati sono quelli che pianificano per tempo e costruiscono nel tempo e costruiscono nei mesi la loro crescita. Non che fanno piccole azioni spot, per quanto possa essere sicuramente interessante e è molto importante dire ok, voglio pianificare quella che è un'azione strategica e va benissimo, non sto dicendo che chi mi ha scritto questa domanda, Luca, abbia sbagliato nel suo pensiero, ma cerco di metterti, di settare quella che è una tua aspettativa perché ovviamente una persona rimane molto delusa se si aspetta che dall'oggi al domani le cose cambiano drasticamente, cosa che non succede perché nessuna azienda cambia. come diceva Biz Stone, gli altri da fuori possono pensare che questa cosa sia successa, ma in realtà tu sono mesi e anni che stai lavorando duramente per raggiungere quel risultato. Io posso vedere un sacco di imprenditori, ho visto e continuo a vedere e so che ne continuerò a vedere e mi verrà sempre nervoso, che buttano giù un'iniziativa, la mettono in pratica, aspettano un pochettino che può essere una settimana, due settimane, un mese, due mesi e poi dicono che non ha funzionato, prossimo, senza dir so che ho fatto tutto il necessario per farla funzionare, sì, no, ho aspettato i tempi giusti per capire se stava funzionando, sì, giù, sì, no, ho gli strumenti per capire se questa cosa... e allora ci sono quelle persone che mettono in pratica cose nuove in continuazione senza mai portare a termine niente. No, non funziona così, devi prendere una strada ben delineata, una strategia solida, metterla in pratica con tutte le forze e le risorse che hai e poi migliorarne la direzione nel tempo con dei test. Ok, è per questo che ho fondato i SART del web, perché non è semplice. I SART del web offrono un aiuto enorme proprio per questo. Quindi vai su isart.it.it, trovi il link in descrizione, prenota un'ora senza impegno, una chiamata con uno dei miei ragazzi e ragazze che fanno questo tutti i giorni, pianificano strategie, realizzano i materiali e capiscono se la tua azienda può raggiungere quell'obiettivo oppure quell'altro, quale è più facilmente raggiungibile, quale ci vuole meno tempo, quale di più, eccetera, eccetera, quindi possono pianificare una crescita nel tempo assieme a te e condurti verso l'obiettivo. Quindi isart.it.it.it, tutor, link in descrizione. Molto bene, Luca spero di aver risposto alla tua domanda, passiamo alla prossima. Ci scrive Maria Stella, Maria Stella dice Ciao Sarto, lavoro nel ramo tessile e da sempre mi appoggio a una rete di venditori, altrimenti questo lavoro sarebbe impossibile da gestire. Volevo passare da 6 a 8 agenti entro fine del 2025, poi Maria Stella specifica, nel mio settore la selezione e la formazione richiedono parecchio tempo, ma mi hanno detto che in futuro i clienti compreranno unicamente online. Tu cosa ne pensi? Grazie Maria Stella per averci iscritto e aver condiviso con noi il tuo dubbio. Allora, ci tengo a specificare che Maria Stella ha fatto un paio di precisazioni, tipo, altrimenti questo lavoro sarebbe impossibile da gestire se non avessi i venditori. No, tranquilla, tutti i lavori senza venditori non possono essere gestiti, a meno che tu non sia un singolo professionista che ha piccoli volumi di affari, e allora va bene, te la puoi cavare, ok, ma se sei un'azienda hai bisogno di persone che fanno solo quello, che gestiscono il cliente, la vendita, l'erogazione, ok? Cioè ogni campo ha il suo e ogni persona deve sapere fare quella cosa. Quindi tranquilla, tu sicuramente hai avuto l'esperienza che nel tuo settore è così, è così anche fuori. E un'altra cosa che dice, nel mio settore la selezione e la formazione richiedono parecchio tempo. No, no, tranquilla, ovunque. Il dipendente formato, il venditore formato, è un qualcosa che mancherà sempre di più alle imprese, infatti sarà una lotta per accaparrarseli, che te la raccomando. Dopodiché ci ha mandato uno screen di una sponsorizzata, c'è questa donna in piedi che dice, imprenditore, lo sapevi? Le vendite tramite agenti fisici spariranno entro tre anni. Che è una cazzata pazzesca, ma una roba, una troiata, che la metà basta, ok? Però effettivamente è furba, no? Come ammissione, come affermazione. Cioè tu dici che fra tre anni succederà una cosa, fai paura al tuo potenziale cliente, quindi lo spingi a cliccare sulla tua sponsorizzata, tanto che te ne frega di dire delle grandissime boiate. Di sicuro, io posso dirti, Maria Stella con una grandissima tranquillità, la vendita cambierà, ma sta già cambiando. Quello sì. Cioè, sta cambiando l'esperienza dell'utente finale, l'esperienza del tuo cliente, sia nel consumer, ok? B2C, sia nel B2B, nel business, ok? Cioè, sta diventando qualcosa di... Di sicuro l'online sarà sempre più importante. Io posso dirti sicuramente al 100% cos'è che sta per sparire totalmente, ed è lo spam, o meglio, non è che sparirà perché è impossibile farlo sparire, ma di sicuro diventerà sempre meno efficace. Per esempio, vedo un messaggio arrivato a un mio cliente, questo è un messaggio arrivato su Facebook, a un mio cliente, che è una certa Angela che scrive, Ciao, mi chiamo Angela, realizzo magliette e mille altri gadget personalizzati da oltre 10 anni. Se ha bisogno, può scrivermi quando vuole. Ho inoltre una vasta scelta di abbigliamento da lavoro, sono a sua disposizione, nessun obbligo quantitativo, grazie per l'attenzione. Mette un numero di WhatsApp e si firma Angela. Ti posso assicurare che il mio cliente non ha degnato questo messaggio di nessuna attenzione, anzi, voleva cancellare, gli faccio uno screen perché mi è utile, grazie, perfetto, quindi mi sono tenuto lo screen del messaggio della povera Angela, che vende nel vecchio modo, cioè va a rompere il cazzo alle persone, io vendo questo, sono il tuo zerbino, chiamami quando vuoi, pensando che questa sia cortesia, no, questo è farsi trattare come uno straccio per pulire per terra. Questo sparirà sicuramente, perché ci saranno sempre persone disposte a provare a farlo, ma il gioco non varrà più la candela, cioè i clienti sono sempre più resti ad accettare questo tipo di comunicazione, cercheranno sempre più, perché poi la gente vuole l'opzione migliore, o la più economica. E se ti proponi come quella più economica, fallisce automaticamente, quindi li proponi come quella migliore. E le persone vogliono scegliere loro, o meglio, vogliono andare a puntare, chiedere informazioni a chi ritengono valido per il loro tempo. Io spero di non dire niente di strano, ok? Per dirla molto in breve, il modello vincente è, io ho un'ottima comunicazione online, la gente è tentata, vuole quello che vendo, quindi chiede informazioni, quello diventa un lead, una persona calda, un potenziale cliente. Lo passo alla mia rete di venditori, che lavora il lead per portarlo a comprare, ok? A prendere la cosa migliore per lui o per lei. Il venditore non sparirà mai. Ci sarà sempre bisogno di un contatto fisico. Cioè, noi start del web, che siamo un'agenzia totalmente online, andiamo a trovare il cliente fisicamente, ok? Cioè, non è che, ok, siamo solo online, tu non puoi... No, andiamo lì perché sapere perfettamente che c'è bisogno del contatto fisico. Sempre, ok? Di sicuro per piccoli acquisti potrebbe non essere necessario, ma metti caso che devi vendere robe da 10, 20 o 30 mila euro. Cioè, tu compreresti mai una macchina totalmente online senza neanche darla mai a vedere? Dubito fortemente, sono una percentuale irrisoria. E sarà sempre così, perché siamo esseri umani, nel nostro DNA, siamo evoluti così per centinaia di migliaia di anni. Probabilmente in un futuro molto lontano, ma che non riusciamo neanche a immaginare quanto, potrebbe cambiare la razza umana. Ma il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, si è formato in una maniera in cui abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno di contatto, di guardare persone negli occhi, di instaurare un rapporto con qualcuno. Per quello funziona molto bene la comunicazione quando ci sono degli esseri umani, e non quando è muta, quando c'è solo il prodotto. Perché la gente si affeziona più facilmente alle persone. Cioè, la cosa più comune è che tu capisci che quel fornitore è un buon fornitore, hai il contatto con quel venditore, lo chiami per quello che ti serve ogni volta che ti serve. Ok? Quando hai instaurato un rapporto. Ma deve essersi quella persona. Se non c'è quella persona, pensi di poter delegare tutto quanto a una macchina? Non esiste, perché le persone hanno sempre delle richieste, hanno sempre dei dubbi, hanno sempre delle sfumature nella loro modalità di acquisto. Tu stesso, tu stessa, la funzioni così, e così funziono io, e così funzionano tutti là fuori. Il venditore non morirà mai. Al massimo può cambiare. Muoiono le aziende che non si adattano ai tempi. Quelli che mandano i venditori, come Karen da Cannone, a cercare l'azienda, a tirar su il contratto. Quelli sicuramente spariranno, perché sarà sempre più difficile fare clienti. Perderanno sempre più quote di mercato, finché, per tutte, è fisiologico, arrivano i momenti di guida e cappotti, perché le spese superano il fatturato, superano le entrate. Ma quello che cerco di dirti è che devi assolutamente continuare a prendere agenti, prendere persone, formarle, ma devi essere tu, puoi formarle nella maniera giusta, nella maniera corretta, per essere al passo con i tempi. Vuoi un suggerimento? Vuoi capire come fare? Allora vai sui site.it.it slash tutor, trovi il link in descrizione, è una bella chiacchierata, non te la toglie nessuno. Grazie per averci scritto. Molto bene, prossima domanda, ci scrive Ugo R. Ugo, ciao Salto, ti ho scoperto col video sulle sei colonne dell'azienda e ho rivisto 30 anni della mia esperienza lavorativa condensati in un'ora. Davvero complimenti, grazie Ugo. Volevo farti una domanda. Io mi occupo di due delle colonne che hai trattato, l'organizzazione aziendale e la gestione del personale. In pratica entro in un'azienda e miglioro l'operatività causando una diminuzione degli spieghi di tempo e torno a vera aziendale. Il mio target sono le imprese con un minimo di 12 impiegati e la produzione interna. Stavo pensando di farmi pagare a percentuale sul fatturato sviluppato in base ai risultati che porto all'azienda. Questo mi differenzia molto dai miei concorrenti. Come potrei comunicare questo modello di business? Ugo, grazie per averci iscritto. Ti confesso che la tua domanda mi ha fatto venire i brividi. Ti spiego perché la tua domanda va benissimo. È perfetta. Hai visto un'opportunità là dove forse i tuoi colleghi non l'hanno vista o comunque ti senti molto sicuro delle tue potenzialità, delle tue capacità. Va benissimo. Rimane il fatto che io questa cosa te la sconsiglio con tutto me stesso. Cioè, è proprio è il male. Ma andiamo a capire esattamente perché. È un qualcosa che si ripete in tantissimi settori del mercato. Farsi pagare a percentuale sul risultato. Una cosa che normalmente le persone serie non fanno e chi ha molta esperienza nel mercato sa anche il perché. Ma si chiama di allora questa cosa che tu stai dicendo si basa su due principi fondamentali. il primo è la gratitudine il secondo è la certezza legale. Entrambe le cose devono esserci entrambe altrimenti questo modello che mi hai proposto non funziona. Ma entrambi queste cose sono estremamente rare in Italia. Capisci? Gratitudine. Che cosa voglio dire? Voglio dire che metti caso che io Enrico Cecchini mi faccio pagare a percentuale sul fatturato. Lavorando bene c'è caso che io possa guadagnare molto di più che con un contratto normale fisso. Metti caso che faccio un mensile fisso da 2000 euro magari posso fare magari 6, 7, 8 mila euro con la percentuale sul fatturato. Fischia è una gran cosa. Ottimo dovrei dire allora subito vado a fare un contratto sul percentuale di fatturato. Molto bene. Però che cosa succede? Succede che dopo un po' l'imprenditore o l'imprenditrice si rompe il cazzo di darmi tutti quei soldi. Cioè inizialmente no inizialmente mi è grato perché fa un fatturato che prima non farebbe se non fosse per me. Ma a parte che poi dopo un po' dice ok ma quindi è bravo lui non sono brava io non sono bravo io scattano dei meccanismi strani alla testa delle persone ma soprattutto la gratitudine per il grande risultato che ha ottenuto grazie a Enrico Cecchini dopo un po' scema e quindi automaticamente arriva qualcuno che dice ma ma sta struttura che hai qua che sta andando ma quanto paghi 8 mila euro al mese ma sei matto sei matto io ti faccio uguale a mille ti faccio uguale a 500 gli ho dice uno gli ho dicono in due gli ho dicono in tre gli ho dicono in quattro alla fine ci crede ci crede mi manda a quel paese permette di pagarmi le fatture e dà tutto quanto in mano a qualcun altro seconda cosa la certezza legale che cosa voglio dire vuol dire che in Italia anche se sei nel giusto ok partiamo dal presupposto che tu devi essere nel giusto perché questa cosa possa farti incazzare perché se non sei nel giusto non ti puoi incazzare ma anche se sei nel giusto ci sono i tempi giudiziari che sono lunghissimi lunghissimi una roba estenuante e l'incertezza del contesto giudiziario ok che quindi non è mai sicuro che una legge venga ben ben cioè è una cosa anche strana perché una cosa magari può funzionare a Genova e non funzionare a Milano perché dipende dal giudice come interpreta la legge e come la applica cioè può può cambiare può cambiare da un posto all'altro possono può esserci un inghippo per cui la cosa non funziona in Italia funziona così in America no per esempio in America certe cose funzionano molto meglio perché c'è una certezza legale fortissima ti tirano via anche le mutande se fai il furbo la furba su alcune cose ok in Italia no in Italia anche se qualcuno non mi paga 20.000 30.000 50.000 euro di fatture può cavarsela tranquillamente senza nessun problema cioè è inutile che tu dici no no gli faccio causa no ma può tranquillamente cavarsela può non succedere niente capisci questo è un grande vincolo anche alla crescita economica italiana purtroppo ma torniamo a noi io ti sconsiglio di fare questa cosa ma se sei interessato ad andare comunque avanti cerca di costruire un sistema in cui hai due cose se manca anche solo una di queste non andare avanti la prima ok è che devi avere il controllo sulla struttura se manchi tu si deve fermare tutto cioè perché altrimenti tu ti fai un culo culo talallo per sei mesi per creare una struttura dopo i sei mesi ti mandano via la danno in mano a qualcun altro ok capisci cioè se questa cosa non si può creare cioè non si può generare la certezza che al momento in cui ti dici ok basta è finito tutto si spegne allora ti inchiappettano che è un piacere ok perfetto la seconda cosa che devi avere è l'assoluto controllo finanziario cioè devi sapere quando entra ed esce un euro e perché ti faccio un esempio io ho un cliente a cui abbiamo dato degli ottimi risultati ha chiuso il contratto con i Sarti ma non perché abbiamo litigato o cose del genere no perché un suo socio amico fraterno ma era proprio da una vita e tutto quanto gli ha inculato 250.000 euro facendogli sparire in nero in un'altra azienda che avevano insieme e lui si è trovato che dal niente ha dovuto coprire un buco enorme ha stoppato un sacco di roba cioè ha rischiato il fallimento di tutto quello che aveva in mano capisci e queste cose capitano anche fra amici capitano anche fra parenti ok perché io devo fidarmi di qualcuno ed essere sicuro ok mi paghi a percentuale sul fatturato ok e quindi tu puoi aprire una seconda azienda e fatturare con quell'altra cioè capisci non la certezza non esiste esiste solo che tu emetti una fattura su un contratto concordato la persona te la paga la persona non te la paga quello è sicuro ma cioè queste cose capitano anche nelle fusioni aziendali perché non dovrebbe capitare a te cioè come fai a sapere questa persona ha fatto un contratto grazie a te o non l'ha fatto cioè uno potrebbe dire no questi soldi li ho fatti per cazzini e tu non c'entri niente quindi non ti do la presentazione su questi soldi entrati qua ok oppure faccio un contratto da 50.000 euro ma 25.000 me li prendo in nero e 25.000 li faccio entrare puliti cioè se ti incappi in questa roba che non è per niente rara in Italia purtroppo il tuo modello crepa esplode quindi io ti sconsiglio vivamente di fare una è un momento per cui noi Sarti non lavoriamo a percentuale perché è un attimo che ci inchiappettano in questo modo che uno poi si sente anche figo no? ah ah ho inchiappettato in Sarti senza sapere che in realtà si sta dando la zappa sui piedi perché sta generando una struttura perché l'ho già spiegato in altri video come il nero ti rompe l'azienda però va a spiegarla a una persona cioè se poi la cultura italiana è soprattutto una cultura feudale no? c'è il signore che arriva e chiede le tasse tu devi nascondere il cibo devi nascondere tutto altrimenti il signore te li ruba tu ti ruba i soldi ok? questa è ancora la cultura italiana questo è ancora il substrato culturale mentale che ha l'italiano medio e quindi è quello che andrai a trovare la maggior parte ci sono delle persone illuminate sì ma allora vai a fare il dipendente per loro cioè capisci? se vuoi la certezza se vuoi avere un buon numero di clienti ti serve una struttura ti serve una buona comunicazione che ti attira le persone giuste e ti manda via quelle sbagliate e purtroppo arriverà comunque la merda dovrai scartarla e potrai scoprirlo solo facendoci un contratto e sbattendo il muso sul fatto che sono degli idioti completi ok? non è molto diverso da questo quindi mi raccomando stai accorto e cerca di non farti inchiappettare con quella che potrebbe essere un'ottima sulla carta un'ottima idea ma te lo dico nell'applicazione ok? ha più rischi che benefici grazie tantissimo per averci iscritto passiamo alla quarta domanda ci scrivono Giovanni e Rachele ciao Sarti siamo Giovanni e Rachele e gestiamo una struttura ricettiva sulla pennina emiliana qua vicino lungo la via degli idee perfetto la conosco molto bene ultimamente i pellegrini come li chiamiamo noi stanno calando le visite di questa stagione sono meno di quelle che ci aspettavamo e stiamo valutando di attivare una campagna di comunicazione online per attirare turisti europei o che quindi per uscire dall'Italia va bene avete esperienza in questo campo? sareste interessati a una collaborazione? saluti Giovanni e Rachele grazie Giovanni grazie Rachele che tra l'altro mi mandano lo screen di un articolo di giornale che dice in calo gli escursionisti sulla via degli idee esattamente come dicevano loro il rallentamento cominciato nel 2023 si è reso più tangibile nei primi sei mesi 2024 tra le cause l'esaurirsi dell'effetto covid che aveva obbligato gli italiani a fare vacanze in Italia e il maltempo che ha fatto cancellare molte prenotazioni cresce il turismo dei stranieri che solo in parte compensa il calo nelle strutture ricettive sembra essersi esaurita la spinta propulsiva della via degli idee dopo gli anni record del covid molto bene quindi la domanda è esperienza siamo interessati allora io sono nato nel turismo sono letteralmente nato come neonato non nel senso che sono nato come figure professionale ma io sono proprio nato dentro una struttura alberghiera so perfettamente di cosa stai parlando e sono anche scappato a gambe levate da quel mondo perché presenta tutta una serie di criticità davvero poderose ok intanto il turismo in Italia è un settore in rosso o sarebbe in rosso se non fosse che la maggior parte delle strutture ha degli schemi familiari quindi magari sono collaboratori domestici si nasconde i soldi facendo del nero altrimenti non starebbe in piedi ok questo vuol dire che è un modello di business sbagliato ok cioè il tipo di turismo che va per la maggiore in Italia è un turismo a basso costo ok è un turismo povero e il turismo povero produce meno di quello che brucia ok l'ho parlato anche in altre puntate non voglio tirare troppo per le lunghe questo discorso però che cosa voglio dire vuol dire che la maggior parte delle aziende turistiche si limitano a esistere mettere un cartello fuori che ho scritto ehi sono qua ok e quindi parassitare quello che è un flusso di persone che nature ok naturalmente arriva in quel luogo determinato ok quindi due alberghi si contendono il turista che per caso aveva già deciso di passare lì che può essere la via degli lema può essere il salento può essere la riviera romagnola ok dove sono nato io può essere qualsiasi posto nel mondo la maggior parte delle attività turistiche funziona ragiona in questo modo e questo è un modo di ragionare estremamente fallimentare perché non ti crei il cliente appunto vai a parassitare qualcosa che già esiste un flusso che può aumentare può calare cioè quindi come una barca in pre dalla marea a volte va su a volte va giù a volte va giù 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 ok oppure va su 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 come diceva l'articolo c'è stata una spinta propulsiva durante gli anni del covid perché la gente non poteva andare molto lontano e quindi ha scelto le mete più vicine quindi immagino che le regioni tutte qua attorno abbiano detto c'è la via degli idee andiamo a Camporella insomma ma tutto questo discorso per dirti cosa che ho un'esperienza tra l'altro che mi ha profondamente segnato non in miglia romagna ma in veneto una cara amica mi aveva chiesto di darle una mano in un progetto che era anche molto molto carino perché voleva unire i musei veneti in un consorzio che doveva attirare più clienti più turisti eccetera eccetera e c'è stata è fallito tutto poi lei ci ha anche rimesso la faccia ci ha rimesso il nome ci ha speso molto oltre le risorse anche personalmente professionalmente io per fortuna non sono rimasto bruciato in questa cosa ma non perché fosse brutto ho fatto male il progetto sulla carta era perfetto come dicevo prima alcuni progetti sulla carta funzionano sono meravigliosi poi vai nella realtà altri scontri contro i fatti i fatti dicono che la maggior parte delle persone che fa questo lavoro cioè lavoro culturista è estremamente egoista gretta e ha la visione molto molto miope molto stretta che sono concetti che non ha niente che vedere con imprenditorialità deve essere il contrario un imprenditore deve avere una visione a lungo termine deve sapere investire deve sapere vedere oltre il proprio naso quindi che è successo con questi musei nessuno di questi musei voleva condividere i dati voleva pagare il budget cioè aspettavano tutti quanti che fosse qualcun altro a fare il lavoro per loro avevano tutti quanti paura che gli altri musei gli rubassero i clienti cioè penso 60 milioni di italiani su un milione di turisti europei cioè sti musei si sono litigati le briciole hanno fatto saltare il banco ed è andato tutto quanto alla malora ok si sono anche persi i fondi pubblici non si sa dove sono finiti dei soldi una brutta storiaccia in cui non ho voluto neanche metterci un mignolo guarda proprio una roba brutta e io non capisco perché dovrebbe essere diverso nel vostro caso nel senso io probabilmente parlerei con voi due e mi troverei di fronte a due ottime persone ok e non sto dicendo che non dovrebbe essere così non ho nessun motivo per chiedere che non sia così ma so certamente con certezza che statisticamente incontrerò persone dobbiamo fare una collaborazione con delle altre strutture basta che uno o due di questi cominciano a remare contro e salta tutto il tavolo ok il turismo è povero è un settore in rosso se un'azienda non ha da sola gli strumenti per potersi sollevare per poter creare il proprio cliente ok deve aspettare gli aiuti dallo Stato allora quell'azienda è meglio che chiuda è meglio che quelle persone vandano a fare i dipendenti perché si stanno solo creando una pietra tombale fatta di debiti e di rimorso ok di cose fisiche vere i debiti e di cose di pesi psicologici grossi il rimorso deve aver fallito cioè che è molto dura riprendersi da un simile colpo te lo assicuro e ho visto persone devastate da questo ok potevano andare con le capacità per riprendersi ma anche non ce l'hanno più fatta perché in Italia poi è brutto fallire cioè proprio ti mettono una stima a te sopra grossa 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 quindi in genere le attività che possono fare questo sono troppe sono frammentate hanno soffrono questa miopia imprenditoriale quindi non ci sono gli strumenti per farcela io non toccherei una cosa del genere neanche con un bastone lungo 3 metri per citare South Park una puntata non mi ci metto neanche sotto minaccia di morte ok perché perché le condizioni perché riesca sono infinite infinitesimente poche ok sono pochissime noi italiani abbiamo un ottimo territorio abbiamo coste bellissime abbiamo bellissime e proprio per questo chi ci lavora dentro non riesce a levarsene cioè non pensa mi viene sempre in mente i paesi arabi che hanno costruito delle città meravigliose e stanno rubando tantissimi tantissimi viaggatori tantissimi turisti all'Italia che non avevano niente avevano solo il deserto però hanno da quel niente hanno costruito qualcosa consapevoli che non avevano niente l'italiano invece che ha tutto ok il cibo il clima il panorama ok proprio per questo perché devo fare altro già quello la gente deve arrivare da sola ok e non funziona e non funziona quindi vi ringrazio tantissimo per la domanda ma noi sarti non siamo interessati molto bene passiamo alla quinta domanda ci scrive anonimo perfetto non c'è nessun problema potete anche scriversi in anonimo non ci offendiamo nel tuo post in cui confronti due affermazioni identiche dici che sono fesserie puoi approfondire che l'argomento mi interessa ok vedo lo screen perché ti metti ah perfetto si parla di un post che ho condiviso qualche tempo fa in pratica mentre pubblicavo delle cose per i sarti mi sono imbattuto in questi due post identici proprio copia e incolla uno dell'altro in cui si dice google è gratis youtube è gratis chat gpt è gratis canva è gratis pinterest è gratis internet è gratis inizia questo cavolo di business quindi queste persone che prendono lo stesso post e lo copiano e incollano in continuazione sono settimane che è andato avanti per settimane di volta in volta poi esaurendo sempre di più la spinta perché la gente ha smesso di mettere i miei piatti poi è diventato trito e ritrito molto bene quindi lì per lì nel post ho sottolineato quanto sia importante fare cose originali perché deve essere qualcosa di tuo di tuo davvero non che hai copiato da qualche parte l'hai incollato non funziona però effettivamente nel post ho anche detto che quello che viene detto nel post in sé è una fesseria totale che è vero ok è vero perché internet sembra gratis ma non lo è al di là del fatto che la connessione su chi ha dati i dati si pagano con l'abbonamento mensile non è quello che intendo quello che voglio dire è che entrare su internet usare google per cercare dove vado a mangiare stasera è molto facile cercare google per dire ok abito su misura per matrimonio è facilissimo ok poi ci vuole solo il tempo metti poi in confronto i siti che escono eccetera eccetera ma saper utilizzare internet per entrare in questo flusso e quindi essere tu a tua volta scelto o scelta dal potenziale cliente quello ha un costo enorme che tu non puoi pagare ok non puoi pagare perché voglio vedere qual è il ral che ti costa avere una persona che si occupa di social una persona che ti fa le strategie una persona che ti fa le grafiche una persona che ti fa i video una persona che ti fa i testi una persona che ti mette a posto l'automazione una persona che ti gestisce la squadra devo andare avanti cioè tu hai abbastanza soldi per pagare tutti questi dipendenti la risposta è no quindi la maggior parte delle aziende italiane non ha i soldi per utilizzare internet è per questo che il modello satel web è vincente perché queste persone le pago io tu affitti solo una piccola parte del loro lavoro ok quello che serve è perché la tua strategia funzioni ok cioè tu non puoi pagare i professionisti che servono per fare un video su misura costa troppo per te cioè devi fare un mutuo cazzo ma poi devi metterla in campo questo video devi farlo lavorare devi metterlo su un sito devi fare le sponsorizzate che portano le persone al video poi devi creare l'automazione che quelle persone poi arrivano dentro un file e ti arriva la notifica sul cellulare che qualcuno ha chiesto informazioni che qualcuno ha comprato quella determinata cosa che qualcuno ha preso un appuntamento e sta a prevenire quel dato giorno cioè tutta questa struttura richiede un mantenimento e di nuovo grazie al fatto che queste persone le pago io i tuoi affitti sono una piccola parte di questo lavoro allora puoi accedervi ma fino a quel momento questo è un gioco per le multinazionali quando tu non paghi le persone giuste per fare questi lavori succedono cose molto stupide per esempio l'altro giorno ho visto questa sponsorizzata c'è scritto solo media agency quindi è un'agenzia di è una web agency fuffa fondamentalmente ho censurato l'iniziale perché poi poteva essere trovata semplicemente c'è una striscia grigia con scritto iscriviti quindi chi ha fatto questa sponsorizzata si è dimenticato il testo si è dimenticato la grafica o il video quello che era meraviglioso no? e questo dovrebbe essere una web agency che si prende cura delle tue sponsorizzate pensa un po' se sbagliano a fare le proprie figurati se non sbagliano a fare le tue c'è questa sponsorizzata sta viaggiando quindi bruciando budget bruciando soldi veri perché Zuckerberg o chi per lui non ti fa girare le sponsorizzate gratis magari ti sta regalando del budget ma se ne investi dell'altro ok? mica scemo e quindi che cosa è successo? qualcuno ha messo un ragazzino o una ragazzina a fare le sponsorizzate e questa persona ha messo l'attenzione o le competenze che riesce ad avere non abbastanza perché la cosa funzioni basta non è più difficile se tu vuoi che la tua casa venga fatta chi chiami? l'altro giorno ero in palestra ed ero disgustato perché la figlia del titolare stava litigando con degli operai che hanno fatto un casino mentre stanno ristrutturando la palestra ero disgustato perché intanto fai i lavori negli orari di palestra penso che cambierò palestra e in secondo luogo parlavo con questi che neanche parlano in italiano non è che ha chiamato una ditta ha chiamato degli operai così alla bisogna e io penso sempre ma cosa ti lamenti? hai chiamato della gente che non sa fare il proprio lavoro ti hanno fatto un buco che ti hanno bucato un tubo e tu ti lamenti ma devi solo dire sono una coglione aveva fatto questa cazzata usando il femminile perché era una donna lì per lì non è che è sto pensando è una cosa sessista o lei è stato suo padre ad assumerli ok però quello che voglio dirti è ottieni quello che paghi la maggior parte delle cose che ti succedono sono una conseguenza delle tue scelte quindi se scegli un ragazzino una ragazzina o uno scappato di casa per gestire la comunicazione è ovvio che verrà una merda cioè se tu pensi che quali erano le voci Canva è gratis Canva è un software che ti permette di creare immagini ok e funziona bene se sai usarlo ma è per roba da dilettanti le grafiche dei sarti vengono fatte in Photoshop cioè perché non puoi farle bene se usi strumenti come Canva cioè le fai un pochino Google fare le sponsorizzate su Google sai quanto è il RAL di una persona all'anno che ti gestisca le sponsorizzate su Google ma stai scherzando più di un commesso una commessa molto di più quasi il doppio ok YouTube è gratis ma fare un video e mettere su YouTube non è gratis cioè sono puttanate queste cose queste cose motivazionali un altro esempio che ho fatto qualche giorno fa mi continua a comparire questa sponsorizzata del video del film Deadpool e Wolverine grandissimo film ha fatto un miliardo di incassi c'è anche molto da imparare per gli imprenditori italiani da questo film ma andiamo avanti di questo multisala Tibur che ho lasciato il nome perché cazzo la stumultisala sta a Roma ora ragazzi sto a Bologna cosa cosa me ne frega a me di andare a prendere il biglietto a Roma hanno sbagliato a impostare la sponsorizzata hanno sbagliato mettendo dei luoghi in più rispetto a quelli che sono cioè non stanno facendo ma solo che la sponsorizzata sta bruciando budget al di fuori in più perché va a toccare persone che non devono essere toccate cioè capisci quanto è sbagliato affidarsi a persone che dicono ah tanto fare le sponsorizzate su facebook è gratis basta cliccare qua 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 e hai fatto il casino a guidare è gratis basta cliccare qua qua e hai fatto l'incidente vai a cambiare le gomme o a cambiare le candele se non sai dove metterle non ci proverei mai a cambiare le candele nella mia macchina non so non ho idea di dove siano non voglio saperlo va dal meccanico se si bisogna questa cosa perché internet non è gratis perché serve competenza serve competenza per usare gli strumenti serve competenza per capire come utilizzare questi strumenti provo a fare un esempio al di fuori della comunicazione online mi è arrivato questa foto tra l'altro di un cartellone a Bologna ok perché in giro per Bologna ancora non ho avuto la fortuna di vedere questa grandissima puttanata su questo cartellone di un colore rosso molto sgradevole c'è scritto puttana e sotto in piccolo se te lo dice è violenza violenza in grassetto ora questo probabilmente è un'iniziativa non mi sono neanche informato perché sono talmente incazzato che voglio dimenticarmi questa cosa adesso cancello la foto appena posso questi geni hanno letto un volantino che parla di comunicazione hanno applicato alla cazzo dei principi comunicativi universali ok su un argomento tra l'altro molto sensibile ma io penso che impostare la grafica di quel cartellone non costa niente perché è veramente fatto è fatto con Canva ok va bene quello è fatto con Canva quindi siamo a posto è fatto veramente gratis ma quanto è costato stampare tutti quei cartelloni e incollarli ok in giro per Bologna dei soldi dei soldi veri che sono dispesi per fare un qualcosa che deve portare un risultato e non lo porta probabilmente anche il contrario ok perché quello si chiama psicologico del rinforzo ma non sto qua a sottolineare queste cose è sbagliato basta si ripresa perché è sbagliato ma è sbagliato perché qualcuno ha fatto un errore e qualcun altro non sa che quello è un errore cioè tu ti metti in mano delle persone che magari hanno qualche principio hanno fatto un corsettino da 27 euro ce ne sono che sono che veramente o anche da 200 o anche da 1000 anche da 5000 ok una persona ha chiesto una consulenza di Sarti ci ha portato anche un suo dipendente a cui ha fatto fare un corso da 10.000 euro comprato da qualcun altro e quel dipendente non ci ha comunque capito un cazzo cioè non è che fai un corso allora sai fare ok se non è il tuo lavoro non è il tuo lavoro sai quanta gente si propone i Sarti manda il curriculum facciamo il colloquio sono degli idioti completi purtroppo succede però si credono di saperlo ok di saperlo fare e questo è il grande pericolo il grande problema ok internet non è gratis costa molto la cosa buona è che però ti può portare del gran fatturato e quindi il rischio vale la candela l'imprenditore è una persona che si prende i rischi calcolati per carità ma deve prendersi dei rischi nessuna azienda cresce senza rischi e senza investimento quindi questo è ciò che volevo dire quando ho scritto che sono delle grandissime fesserie era un po' lunga da spiegare in un solo post grazie comunque per la domanda passiamo alla prossima ci scrive Anna ciao Sarto ho compreso l'importanza di proporre contenuti sui social ma sono davvero negata con i video mi blocco appena apriamo su registra e non riesco a spiccicare parola due miei dipendenti invece sono molto bravi uno ha già un canale suo dove parla di viaggi e cibo potrei produrre video con loro o ci sono problemi perché non sono loro i titolari tu ad esempio perché non fai far video ai tuoi dipendenti vedo che ne hai tanti non sarebbe un vantaggio rispetto alla concorrenza Anna grazie mille Anna per averci iscritto allora ci sono dei pericoli grossi in quello che hai proposto che te lo spiego subito hai chiesto per esempio io ho tanti dipendenti sì più di altre agenzie sicuramente potrei fargli fare video no fargli fare podcast no no perché perché come faccio a spiegartela sta cosa allora è una questione di skill di abilità mi ho detto il termine in inglese perché diciamo che è un pochino più ampio ma l'abilità di fare una determinata cosa non è collegata all'abilità di trasmetterla agli altri questo per esempio è un grave errore che si fa nell'insegnamento italiano tanti professori sono intelligentissimi bravissimi nel loro argomento trattato ma sono dei cani a insegnare ok perché l'abilità di insegnare è un'altra cosa che ha niente a che fare con l'italiano con il latino con la storia con la geometria eccetera 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 matematica è quello che deve essere quindi si confonde la bravura in qualcosa con la capacità di spiegare gli altri quindi a parte che creare contenuti richiede un sacco di tempo cioè non è che tu premi rec e funziona deve esserci uno studio prima cosa devo dire cosa non devo dire da cosa devo stare lontano lontana che cosa devo trattare in che modo con quale cioè devo dire le cose giuste per il tipo di persone che voglio attirare che voglio toccare che voglio colpire e cioè devo tenermi lontano da certi argomenti e è normale quello che dici che tu ti blocchi quando premi su rec no? su registra cioè probabilmente col cliente sei molto sciolta ma nella realtà quando poi ti vai a registrare senti che non sei più nel tuo settore nel tuo campo nella tua zona di comfort quindi oddio oddio hai paura di qualsiasi cosa capisco perfettamente lo comprendo perfettamente e questa cosa colpirebbe anche i miei dipendenti andando a bruciare un sacco di miei soldi perché io pago ogni ora del loro stipendio e quindi se una persona mi lavora 6-8 ore al giorno e di quelle 4 vanno bruciate a produrre contenuti che poi non sono neanche buoni io sono un coglione capisci? piuttosto è più intelligente che si concentrino a fare al massimo quello che sanno fare ok? che può essere il sito può essere la grafica può essere il testo può essere per esempio se vai sul sito dei sarti i sarti del web.it troverai appunto il blog ok? quindi c'è la mia rubrica al blog del sarto c'è la rubrica del modellista la rubrica della penna rossa che parla di scrittura il mastino di gestione zandale il fabbro ok? di come si fanno i siti Martina l'alchimista che si parla della grafica ok? scrivere l'articolo è già diverso perché è più semplice riportarlo poi va un po' corretto se magari qualche formula non era adatta perché le persone potessero comprenderlo fu magari un po' troppo un po' troppo tecnico ma riuscire bene in un video è difficile è un mestiere in sé ok? che va ad aggiungere io per imparare ragazzi ho messo un'infinità di ore che ho rubato al mio sonno non è che erano ore lavorative io giorno lavoravo e la notte non dormivo per fare queste cose qua ok? questa è la mia storia la mia genesi e dubito che qualcun altro sia disposto disposta a farle è molto difficile ok? di sicuro non i miei dipendenzi ma i miei dipendenzi ma il loro lavoro ho scritto sul contratto io devo fare questo questo e quest'altro quindi si occupano di quello ok? per esempio nel tuo caso abbiamo una cliente Sara che abbiamo realizzato per lei un video o video su misura era proprio affiancata con un'attrice professionista ok? le abbiamo scritto i testi abbiamo fatto tanti check più di 12 ore di registrazioni ok? per realizzare un bel video che ci sta portando dei grandi risultati ok? tra l'altro è uscito questo mercoledì mi pare la prima di quattro puntate di un documentario in cui Umberto Masiello assieme a Tommy e a Pietro ti spiegano ti fanno vedere come si realizza questo video come l'hanno realizzato che scelta hanno fatto perché hanno fatto alcune cose come le hanno fatto quelle altre ok? è una chicca ok? se lo puoi guardare diviso in quattro puntate ne uscirà una a settimana ok? e quindi lì per lì lei aveva certe capacità ne abbiamo associato qualcun altro ok? aveva un altro cliente per esempio che non compare mai nel suo video su misura abbiamo preso solo degli attori ok? abbiamo un altro video su misura in cui marito e moglie hanno fatto entrambi parte del cast e poi altri erano dipendenti altri erano persone che dicevano mi sono tratto molto bene in questa azienda perché erano clienti soddisfatti cioè dipende poi da molto dai casi ora venendo alla tua situazione mi dice queste due persone sono brave a fare video io non so se è vero cioè magari sono brave a fare quel tipo di video ma non il tipo adatto di video per la tua situazione cioè sono quel tipo di persona che può attirare il cliente che stai cercando oppure no non ne ho idea non ne ho idea in secondo luogo se tu deleghi a un dipendente la forma la io ho un'amica una conoscente che ho visto si è messo a fare dei video per una certa azienda e tempo sei mesi è stata acquistata da un'altra azienda ok è passata nell'altra perché perché si è mostrata facendo video nella prima azienda e quindi poi l'hanno assunta nella seconda ha fatto un level up grazie a cui video ok ora non sto dicendo che i tuoi clienti i tuoi dipendenti faranno questo ma c'è la possibilità c'è la possibilità che le persone acquisiscano una autorità e poi ti mollino ok io ho fiducia cieca nei miei dipendenti e nei miei collaboratori tu hai lo stesso hai una struttura che gratifica molto le persone che lavorano con te e le fa essere contente contenti di lavorare per te se si bene ok quindi tenta questa cosa però ti servono le competenze per capire se una certa cosa va bene oppure no quindi vai sui site del web.it slash tutor per notare la tua consulenza gratuita link in descrizione grazie per averci iscritto Anna molto bene da un po' che stiamo registrando sì e siamo andati all'ultimo argomento perché i fuffaguru e le webbats si fuffa la sparano sempre più grossa ogni mese che passa qui mi avete scritto in parecchi mi avete mandato una serie di screen molto interessanti che io ho raccolto la prima per esempio è questa grafica viola e c'è un triangolo rovesciato con scritto la psicologia dietro al successo sui social meraviglioso in ogni una grafica abbiamo ridotto il successo parte 1 perché le persone interagiscono c'è scritto che il 30% è per la qualità alta del contenuto 35% gancio più struttura virali questa cosa qua che esistono ganci e strutture virali è fantastico 25% informazioni cda 10% riprova sociale di chi ha già interagito poi perché le persone seguono 35% contenuti gratuiti di valore tangibile 20% posizionamento forte e in target 20% branding del profilo 25% leve sul pain point del pubblico cioè qua sono statistiche totalmente a cazzo che però ti fanno pensare oh magari questa cosa funziona è un genio chi fa sta roba certo tipo di persone ci casca anche poi ultima parte perché le persone comprano 15% principio di reciprocità 40% offerta la trasformazione 30% rischio minimizzato 15% testimonianze e casi studio ok la domanda era perché i fuffaguro e le web baci di fuffa la sparano sempre più grossa perché queste cose stanno funzionando sempre meno sparare minchiate come queste funziona sempre meno perché il pubblico è sempre più anestetizzato cosa vuol dire vuol dire che se dici a lupo a lupo una volta tutti accorrono col forcone in mano le hai due volte arrivano ma dicono che cazzo succede 3-4-5 alla fine dice al lupo al lupo la gente non viene e poi tu vieni divorato al lupo e questa è la storia famosa vuol dire che ci sarà sempre la locco che casca in queste cose e dice no magari funziona ed è disposto disposto a spendere soldi ci sarà sempre cioè i siti finti vendono a strafottere permettimi il termine che sono già stanco è stata una giornata lunga dicevo vendono a strafottere c'è la gente che spende 2-3-4-5.000 euro in siti che fanno cacare non servono a niente convinti grazie a quel sito faranno un sacco di soldi e ci sarà sempre la persona disposta a cascarci quindi ci sarà sempre la web quando si fuffa il fuffaguru scusami il fuffaguru disposto a sparare minchiate grossissime pur di attirare questo tipo di persone ora nella grafica al tuo triangolo abbiamo visto il principio di semplificazione cioè io ti semplifico normalmente il concetto in maniera che tu hai la percezione di averlo intuito di averlo capito ti senti intelligente ok e quindi mi dai credito perché ti ho dato una bella sensazione molto spesso le persone rimproverano a me ok rimproverano a me il sarto di essere troppo prolisso di fare contenuti troppo lunghi è troppo lungo sto video io non lo guardo è troppo lungo sto posto articolo e io gli rispondo testa di cazzo pensi che una cosa così complicata cioè possa essere spiegata o espressa in qualcosa di meno ma allora stai minimizzando quello che è il mio lavoro va benissimo non me ne frega un cazzo ma vai a farti truffare dall'altro fuffaguru ok da qualcuno che ti fa la grafichetta stupida ti dà quattro numeri tu ti senti un genio e quindi gli dai soldi altro concetto è ingigantire anche ingigantire funziona tantissimo per esempio questa sponsorizzata questo tizio che dice masterclass di tre video cento per cento gratis bello una volta una volta la masterclass era qualcosa che costava tipo 50.000 euro era l'ultimo gradino di un percorso di formazione molto importante ora le masterclass sono gratuite hanno rubato il termine costosissimo e l'hanno reso gratis fantastico ok diciamo masterclass di tre video cento per cento gratis per chiunque voglia diventare un venditore autonomo che chiude contratti ad alto costo vuoi lasciare il tuo lavoro da dipendente e cominciare a guadagnare bene scopri la professione del closer full stack passi da 3.000 a 15.000 euro al mese diventa un closer full stack il lavoro più pagato al mondo mi casca nelle braccia quando vedi questa faccia sorridente di questa persona che dice sta grande puttanata io devo spararla altissima perché tu devi avere la forza di dire oh magari è vero provo ok quindi poi entri in sto circolo ti promettono un sacco di cazzate e poi ti sparano il contratto da 1.000 euro da 10.000 euro da 100.000 euro e ti diventi diventi un riccone per tutta la vita ora io per esempio conosco bene una persona che vende corsi di copywriting ok l'arte per vendere che è importantissima cioè ragazzi non scherziamo il copywriting è importantissimo per una campagna di comunicazione che funziona ma è solo un elemento poi c'è la grafica poi c'è il video poi c'è la sponsorizzata poi c'è il sito c'è la strategia tanti altri aspetti non c'è solo il copywriting però questa persona che vende corsi per copywriting deve spararla sempre più alta perché? perché deve dare l'energia alle persone per comprare i suoi corsi ok se io andassi da un dipendente a dirgli guarda ti sei rotto il cazzo dei tuoi 1.500 euro al mese io te ne farò guadagnare 1.800 e lavorerei da casa però mi devi dare 20.000 euro la persona dice col cazzo rimango a fare 1.500 euro ok alla fine è questo quello che succede cioè guadagni 1.000 1.200 1.400 1.800 2.000 quando ti va bene poi torni giù perché comunque sono guadagni altalenanti a seconda dei lavori che prendi e una persona poi dopo magari si rimangia anche quello che ha fatto ma quello che cercano di dirti è che loro per venderti la loro merda devono alzare tantissimo il tiro altrimenti la gente non lascia quello che ha e bisogna distinguerci da queste persone quindi lavorare con una comunicazione online molto più settata sul tuo tipo di cliente sto già pensando a quello di fare tu ma tu non vendi corsi cioè tu vendi qualcosa di reale qualcosa di fisico qualcosa di vero ok tu hai una struttura vera hai un luogo in cui attirare le persone in cui accogliere le persone hai dipendenti che sanno fare il loro lavoro hai persone contente che sono soddisfatte di quello che hai fatto quindi devi lavorare su questi elementi devi creare materiali che facciano vedere che questo esiste ok e devi stare lontano lontana dai trucchi dagli scamotage c'è un'altra sponsorizzata che mi hanno visto con uno dei miei dipendenti questo c'è un semplice trucco per aumentare il testosterone un semplice trucco per riaccendere il testosterone delle persone spiegato dal top urologo se io ti dico ecco il semplice trucco per avere qualcosa il tipo di cliente che cerca la bazza si accende subito wii wii che bello il trucco semplice è facile lo posso raggiungere anch'io se è semplice ok non ho voglia di fare un cazzo nella mia vita ma questo lo posso fare quindi è anche un gancio per esempio che io non userò mai perché attira un tipo di cliente è sbagliatissimo per esempio quest'altro mio collega fra virgolette fa le sponsorizzate con scritto più fatturato con minor sforzo se io propongo a qualcuno di fare un minor sforzo e poi entri nei sarti e sei da preparare materiali da rispondere alle domande da impostare i dipendenti da appendere le cose in negozio da uno dice mi hai promesso un minor sforzo cioè l'azienda non cresce come uno sforzo mai dimenticatelo non è la realtà ok queste sono fandoine sono puttanate purtroppo e ci sarà sempre qualcuno che verrà a dirtele questo è il mio crudele lavoro quello di romperti le fantasie ma sto registrando già da troppo adesso arriva il mastino che mi dà una grossa bastonata tacapoccia è stato un piacere passare il tempo assieme a te io sono Enrico Cecchini e ho fondato i Sarti del Web un'agenzia che usa copia aumentare e fatturato e accelerare la velocità e la crescita delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura vuoi leggere qualcosa in più su di noi ci trovi sui sarti del web.it ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast detto questo ti auguro buona giornata buon lavoro e buona comunicazione online ciao